Un grande benvenuto a tutti quanti, sono Raffaele Iatrino e oggi vi accolgo alla Saicar di Via Rivarolo 33 a Mappano, la nostra sede storica perché è qui da più di 40 anni e da più di 40 anni vi vende le automobili e soprattutto vi ripara le automobili e vi offre assistenza, quindi una concessionaria completa a 360 gradi. Ma oggi io per voi ho in serbo delle sorprese veramente sensazionali, perché? Perché ho da presentarvi tutti i modelli nuovi che Renault e Dacia hanno portato sul mercato, quindi vi invito a seguirmi, a non buttare via il telecomando e a scoprire con me i modelli che ho selezionato per voi. Andiamo insieme. Ed ecco voi la prima grande novità, la nuova Renault Raffaele. Appena arrivata, appena presentata al pubblico, da Saicar di Via Rivarolo 33 a Mappano, la potete scoprire e provare su strada e toccare con mano. Perché? Perché questa è l'automobile destinata proprio a voi a fare i test drive, quindi venitela a provare e toccare con mano. Ma pensate che per voi ho riservato un'offerta veramente sensazionale. Perché? Perché parliamo di un prezzo di 40.990 euro con rottamazione in pronta consegna. La potete scoprire e provare qui a Mappano in Via Rivarolo 33 alla Saicar. E continuiamo con le grandi novità. Adesso è il momento della nuova Renault Captur. Pensate, GPL, questa è una versione GPL in pronta consegna a 19.990 euro, sempre con incentivo rottamazione e anticipo zero. Quindi delle offerte veramente sensazionali. E come facevo a non presentarvi la regina incontrastata del mercato? La nuova Renault Clio, rivisitata in restyling. Quindi parliamo della nuova Renault Clio. Ebbene, da Saicar di Via Rivarolo 33 a Mappano la troverete in pronta consegna. Ma ascoltate bene, GPL, quindi il prezzo che sto per dirvi è la versione GPL in pronta consegna a 12.990 euro con anticipo zero e con rottamazione. Quindi venite a scoprire la nuova Renault Clio, venitela a provare su strada perché da Saicar la comprate a 12.990 euro. E adesso ci spostiamo in casa Dacia. dove vi aspetta un'altra grande novità. Ma è una novità che non ha bisogno di grandi presentazioni. Perché? Perché parliamo del nuovo Dacia Duster. Lo vedete qui al mio fianco? Pensate, rivisto totalmente nelle linee, nei motori e soprattutto nella tecnologia. Bene, da Saicar lo potete scoprire, lo potete provare su strada, ma soprattutto troverete un prezzo per la versione GPL veramente bomba. Perché? Perché solo da Saicar lo pagate 16.690 euro con anticipo zero e con auto da rottamare per una versione GPL in pronta consegna. Allora, abbiamo visto tante novità. Io vi rinnovo l'invito di venire in concessionaria a scoprire queste grandi novità e provarle tutte quante su strada. Troverete me e i miei colleghi pronti ad accogliervi per darvi la soluzione giusta, il consiglio giusto anche dal punto di vista finanziario. E dopo tutte queste grandi novità, io adesso con voi voglio andare a scoprire un altro mondo, quello dei veicoli commerciali. Quindi venite con me perché anche lì ho delle offerte veramente sensazionali per voi. E adesso cominciamo a parlare di veicoli commerciali. Perché? Perché Saicar è leader di vendita di veicoli commerciali a Torino. Presente sul mercato da più di 40 anni e da più di 40 anni è vostro partner nel vostro lavoro. Bene, Saicar è diventata concessionaria esclusiva a Torino per i veicoli commerciali Maxus. E da Saicar li trovate in pronta consegna. Pensate che per un modello elettrico riusciamo ad arrivare a uno sconto di 30.000 euro se avete un veicolo commerciale da rottamare. Sono delle offerte veramente sensazionali. 30.000 euro è un risparmio veramente fortissimo per un veicolo commerciale in pronta consegna. Ma da Saicar potete scoprire anche il nuovo E-Deliver 7, la novità assoluta in pronta consegna anche questa. Ma oggi io per voi ho riservato un'offerta veramente sensazionale. Perché? Perché questo mezzo che voi trovate qua a fianco a me lo trovate in pronta consegna ma è un chilometro zero. Un chilometro zero appena immatricolato. Un veicolo che di listino costa 43.500 euro. Pensate che da Saicar lo pagate 24.990 euro. Vogliamo anticipo zero ma soprattutto delle rate piccolissime da 346 euro al mese. Ecco queste sono le offerte di Saicar. Veicoli in pronta consegna, veicoli chilometri zero che potete trovare solo ed esclusivamente da noi, veicoli full optional. Pensate che questo Maxus, il Deliver 9, è un L3 H2. Introvabile, full optional. Dal climatizzatore alla radio DAB, touch con schermo da 10 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, fendinebbia, lucchetti per le portiere con chiave. Insomma un veicolo full optional al quale voi non dovete aggiungere niente. Bene, da Saicar è in pronta consegna. Ne abbiamo questi e ne abbiamo tantissimi altri e io vi aspetto a venirlo a scoprire e provare su strada. E continuiamo con le grandi novità. Perché? Perché Saicar è concessionaria Cirelli per Torino e provincia. E qui al mio fianco vedete la punta di diamante di casa Cirelli. Perché? Perché è la Cirelli 5 in pronta consegna da Saicar. Ad un prezzo veramente sensazionale. Pensate che quest'automobile full optional costa 33.800 euro. Ma Saicar non vuole un euro di anticipo e vi propone delle piccolissime rate da 338 euro al mese. Sono delle offerte veramente sensazionali. E io con questa posso solo dirvi una cosa. Che per voi ho riservato delle proposte veramente uniche su modelli unici e soprattutto su grandi novità che solo da Saicar potete trovare. Il mio invito è rivolto a farvi venire in concessionaria a provare la nuova Cirelli 5 a scoprirla come automobile perché è veramente una grandissima novità. E siamo giunti ai saluti finali e io per salutarvi ho scelto un'altra automobile che è una grandissima novità arrivata da poco sul mercato. A fianco a me vedete la nuova Renault Scenic full electric. Anche questa è un'automobile da scoprire e da provare su strada. Un'automobile veramente unica. E io con questa vi voglio salutare. Allora abbiamo visto insieme tanti prezzi. Abbiamo visto insieme tante automobili nuove. Ora io vi ricordo che tutte le automobili e i veicoli commerciali che abbiamo visto insieme li potete scoprire da Saicar e in tutte le sue sedi. Quindi parliamo di Mappano in via Rivarolo 33, parliamo di Ciriè in via Torino 99, parliamo di Rivoli in corso alla mano 105. Quindi troverete i miei colleghi pronti ad accogliervi e darvi il consiglio giusto per il vostro acquisto. Grazie a tutti, vi aspetto in concessionaria. Ciao!